Gabriele, il perfetto weekend, hai fatto un ottimo lavoro, anche nella finale. Sì, che un ottimo lavoro per noi. Non abbiamo capito di fare un ottimo settore, perché perdoniamo solo un hit, ma abbiamo fatto un ottimo lavoro con la squadra. P1 e P2 per la CRG sono davvero felice per la squadra, perché abbiamo bisogno di questo, abbiamo lavorato troppo forti per questo, e ora il tempo è arrivato, abbiamo bisogno di tutto, abbiamo bisogno di tutti, abbiamo fatto un ottimo lavoro. Abbiamo lavorato molto per questo, siamo un pochino per la finale, perché non abbiamo provato i nuovi torri per tutte le ricche, ma ho avuto un po' impressionante nelle prime parti, nelle prime 10 parti ero molto, molto veloce, e poi dopo l'altro ho avuto solo per gestire il pochino e un ottimo risultato. Sì, perché questa finale potrebbe essere un dolore, perché, se pensiamo all'ultimo anno, l'ultimo anno hai fatto la stessa traccia per la prima ronda dell'Europa, il perfetto weekend fino al finale. L'ultimo settimana hai perduto un hit, e sei un pochino, perché venivo sotto la tua tenta, e sei un pochino un pochino, credo che hai bisogno di fare quello che hai fatto oggi. Sì, sicuramente. Credo che era bene per perdere l'ultimo, perché dopo aver perduto abbiamo lavorato più, e abbiamo visto che non siamo in un punto perfetto, e per oggi abbiamo lavorato più, abbiamo testato più cose, e abbiamo cambiato tutto per la finale, e abbiamo visto che il risultato era incredibile. ciò che non c'è nulla, solo per dire grazie per la squadra, perché l'ultimo anno abbiamo perduto la finale, ma l'ultimo anno no, abbiamo vinto tutto, e ora la finale con una buona scelta. Prendi attenzione a Luis, perché ha fatto il miglior rischio, magari hai qualcosa in il pochino, ma ha fatto il miglior rischio oggi. No, 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 è stato molto veloce, lo conosciamo già dal warm-up, quando abbiamo fatto P1 e P2, in nostro gruppo, e abbiamo visto che l'ultimo è stato molto veloce, e abbiamo un pochino incredibile oggi, e sono molto felice per Luis, il suo primo podium in FIA, e sono molto felice per tutto il team, perché l'ultimo è stato molto. Grazie per aver guardato il tuo vittorio. Grazie.